La comodità, la convenienza e il rispetto per l'ambiente. Tre vantaggi e una sola destinazione per fare rifornimento. È l'area di servizio Fucci Fuel della società Carmen SNC dei fratelli Fucci. Si trova ad Andria in via Vecchia Barletta e ieri pomeriggio ha inaugurato il suo impianto di erogazione di carburanti. La conferma di un rinnovato impegno nel settore per offrire agli automobilisti nuovi servizi e forme di risparmio grazie ad una rete di distribuzione moderna servita da personale altamente specializzato più un'area bar per i clienti in sosta. Tutto a due passi delle arterie più trafficate della città. Quattro postazioni dedicate a benzina, diesel e poi la vera grande novità. Accanto a tutte le altre una pompa riservata all'erogazione di gas metano, la prima in assoluto presente nel territorio della BAT. Questa è una novità per il nostro territorio che viene dopo due anni di iter e di percorsi amministrativi e finalmente oggi siamo qui a inaugurare e offrire una nuova possibilità per tutti i concittadini anche per i cittadini di Barletta, Trani, Minervino, Canosa che troveranno la nostra stazione più vicina delle attuali quali Molfetta o Foggia e quant'altro. Noi abbiamo predisposto una squadra di ragazze attive, veloci, simpatiche, quindi al rifornimento non mancherà mai il sorriso. Tra l'altro avremo l'H24 per cui saremo tra le pochissime stazioni di gas metano a fare il servizio per tutta la durata della giornata. Tra poco saremo in grado anche di esplicare l'esercizio in modalità self, cosa impossibile fino a qualche tempo fa con un nuovo decreto uscito da un annetto sarà possibile, abbiamo predisposto il tutto, avvieremo prima in maniera servita poi passeremo al self e il self darà un grande vantaggio perché a quel modo ogni utente, ogni proprietario di autovettura a metano potrà fare il pieno in qualsiasi momento della giornata anche in maniera autonoma con costi nettamente inferiori. A breve avremo anche ulteriori servizi collegati all'impiantistica del metano tra cui saremo deposito fiduciario per il consorzio bombole metano, bisogna spiegare che le bombole vengono sostituite ogni 4 anni gratuitamente dal consorzio bombole metano senza nessun costo per gli operatori e i due depositi più vicini si trovano a Martina Franca e Carapelle per cui daremo la possibilità insomma di un servizio da Bari a Foggia a più corto raggio. Una garanzia di efficienza e professionalità quella dei fratelli Fucci a darne conferma una testimonia d'eccezione scelta per accompagnare la Fucci Fule in questa importante tappa della sua attività, l'attrice e conduttrice televisiva Anna Falchi. Sono dei grandi professionisti nel settore quindi sicuramente siamo in buone mani perché è l'inizio poi di una lunga serie di questo genere di cose con cui appunto stanno investendo e quindi sono moderni ecco. Un ospite speciale per un momento altrettanto speciale che unisce all'inaugurazione della nuova area di servizio anche per gas metano, un rinnovato rispetto per l'ambiente. Sempre importante e bene rispettarlo quindi giusto promuoverlo anche perché comunque fa parte di una terra che è molto importante, è ricca di bellezze ed è giusto preservarla e allo stesso tempo promuoverla.